Tutto dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che sarà una partita differente rispetto a quella del girone. È una finale, è una partita sì. Loro sono una grande squadra, sono arrivati primi da affronte. I punti hanno parlato alla fine, aspetta a noi. Noi ci sentiamo preparati, pronti, carichi, però non dobbiamo sottovalutare gli avversari, sono un'ottima squadra. Per me sarà una partita molto incentrata sul centrocampo, sarà una partita molto fisica. Per quanto riguarda il leader io credo sempre in tutti e nella mia squadra. Io so che loro credono in me e io credo in loro, quindi spero che sarà una grande partita da parte nostra. In bocca al lupo al Parin, tra pochissimo Pari San Gennaro lo sbandito. Cosa serve per battere questa squadra? No, vincerà chi ha più voglia. Semplicemente questo. Sì, ci vuole il cuore. A me basta vincere la partita, poi come viene, viene. E allora in bocca al lupo anche a Capitan Naviglia, lo sbandito. La sedicesima settimana della quindicesima edizione dello Sbordone League si chiude con la finalissima, la finale stellare della Champions sbordoniana, Los Banditos. e Pari San Gennaro fanno il loro ingresso in campo. C'è un fumogeno tutto azzurro ad accompagnare l'ingresso dei parigini. Sono la seconda forza della Star League arrivati a due sole lunghezze rispetto ai Los Banditos che la Star l'hanno portata a casa. Comincia ora Ciccio Como. Riccio in angolo. Tanta affluenza. Alza il rocco. Sinistro! Di Catalano. Che scheggia, quasi favoriti. Il pallone verso De Mattia. Che va a sfidare il dito su quella corsia. Coppola. Tocca il pallone. Occhio a Uccello nell'area. Arriva Coppola. Sinistro! Vantaggio di Uccello e del Pari. Ancora lui. L'airone parigino. Non sbaglia un colpo. È lunga, gioca! Pronti via e subito Pari in vantaggio. Risponde Carlo Muzzico a giro! Direttamente all'incrocio dei pali. È un gol pazzesco. Uno a uno. Uno, tre, tre! Ci sta, ci sta! Ci sta, ci sta! Si batte ancora. Como. Destro Riccio. Con le mani. Prova fuori. Per Coppola. Controllo. Sinistro! Cosa ha preso Tony R? Mamma mia. Parte il pallone di Catalano. Scala così e così. Muzzico raccoglie, esce fuori. Sinistro! Di Tony Longo sul fondo. Fossa il pallone sul sinistro. Arriva Longo. Finta il destro. Poi allarga di là. Catalano Mancino. C'è un rippallo nell'aria. Si coordina Lenzi! Scala! Manaccia! Lenzi, corpo avanti e più veloce. La ruba. Lenzi. Suola, sposta, taglia il campo. Como lo insegue. Lenzi col destro. Scala. Lanza. Sinistro. Palla che scende. Troppo tardi. Apertura. Timida. Coppola ne approfitta. La riprende. Longo. Inespirata. Ciccio Como. La porta sul sinistro. Primo tempo. Dice uno a uno. Lanza. Desterno. Che palla per Ciccio Como. Che puntativo. Ancora. Sfonda. Como in aria. Arriva poi Tony Longo. E vince anche il duello. Prova a passare. Doppio passo. Corte le squadre. Raccolte in quella. Meta campo. Calcio di rigore. Perché Muzzico. Arriva prima di scala. Che lo abbatte. Pischetto. Muzzico non sbaglia. Fa due a uno. Per i Los Banditos. Bombone. Con il numero di San Modo. Muzzico. Batte. Como. Blocca. Tony R. Vantaggio bandito. Vivo. Esce Coppola. Vince il duello. Ancora il pallone di uccello per Coppola. Sta arrivando Trapani. Che intervento. Muzzico corpo avanti. La muove Coppola. Per uccello. Che punta Loreto. Ancora uccello. La sposta. Sul destro. Ancora Como con le mani. Palla dentro. Intuisce Riccio. Che vola. Che resiste. Entra in area di rigore. Cerca il pallone dentro. Muzzico. Sul pallone. Parte il pari. Como. Palla troppo lunga. Ancora si lotta lì in mezzo. Vediamo un po'. C'è un fallo. Pallone sulla linea ma il contatto. Secondo Cerullo avviene fuori. Coppola. Sinistro sul fondo. Butta nell'aria Tony Longo. Antonio calci. Deviazione. Schiamava il pallone di prima. Prova a ritornare sulla sfera. Ruba Longo. Che ha fatto una partita lì in mezzo. Pazzesca. Ancora Tony Longo. Doppio passo su Lanza. Sinistro. Ficcio Como. Destro. Muzzico. Che da là. Praticamente è segnato. Dopo il gol del pari. Scala. Blocca. Due minuti. Alla fine del match. 120 secondi. Como. Di testa. Salta. Uccello. Spizzale. E arriva Coppola. Pareggio. Del Paris Saint-Gennaro. Coppola. Cambia il parziale Alzarrocco. Due a due. Occhio a Muzzico che ci riprova. Fondo. Fischietto in bocca. Questa finale si deciderà. Hai calci di rigore. Calcia prima il pari. Con Dadone. Va Dadone. Destro. Non sbaglia. Uno a zero. Pari. Muzzico. Uno a uno. Destro. Precisissimo. Due a uno. Valinzi. Scala. Neutralizza. Si rimane. Due a uno. Va il capitano. L'eterno. Cicciocomo. No sbaglia mai. Dalla prima. Alla quindicesima edizione. Adesso va il capitano. Valciacchi. Naviglia. Tre a due. Lorenzo Sannino. Destro. Spiazzato. Riccio. Quattro a due. Quanto Antonio. Destro. Rete. Sotto scala. Va il numero dieci capitano del Parigi. Alta clamoroso. Alta clamoroso. Scala. Otoni Longo per portarla ad Oltrans. Longo o no sbaglia. Quattro a quattro. De Mattia. Fuori. Il match point. Questa volta è per i Los Banditos. Che l'hanno ribaltata. Questa situazione. Ancora una volta. E' il Divo. Destro. I Los Banditos. Sono. I campioni. Della quindicesima edizione. Dello Sbordone League. Siamo una squadra che sa soffrire. vincere sui rigori. E non fa niente. Abbiamo vinto. Basta. E allora una dedica per l'ultimo rigore. Alla squadra. Si vola ad Amsterdam. Ad Amsterdam.